Si è tenuto a Milano il sorteggio del primo turno della Team Camp Coppa Italia 2010-2011. Il Benevento Calcio debutterà domenica 8 agosto al Santa Colomba contro la formazione Veneta dell'Este. La vincente affronterà il Vicenza in trasferta il 15 agosto. Chi passerà il terzo turno in programma il 27 ottobre se la vedrà con la vincente del confronto, che vedrà opposto l'Ascole alla vincente della gara tra Lumezzane e Pomezia. Per quanto riguarda il prossimo avversario del Benevento, l'Este è una formazione della provincia di Padova, che milita in Serie D, dove nella scorsa stagione è stata eliminata nei play-off dopo aver chiuso al secondo posto nel proprio girone. La gara del Santa Colomba sarà eliminazione diretta, come per la maggior parte della durata della competizione. Solo le semifinali, infatti, si giocheranno con la formula del doppio match andata in ritorno. Dopo i due turni dell'8 e del 15 agosto, il terzo turno si disputerà il 27 ottobre, il 4 a novembre. A dicembre cominceranno gli ottavi di finale, dove entreranno in gioco le otto squadre di Serie A, teste di Serie Inter, Juventus, Roma, Milan, Napoli, Palermo, Parma e Sampdoria. Alla competizione parteciperanno 78 società, tutte quelle di Serie A e B, 27 tra prima e seconda divisione, 9 di Serie D. Questo nel dettaglio l'esito del sorteggio. Como, Guidonia, Cremonesi, Atletico, Roma, Ravenna, Juve, Stabia, Ternana, Spezia, Monza, Virtus, Sentella, Tarantoffer, Alpisalò, Reggiana, Alzanocene, Spal, Trapani, Alessandria, Sant'Egidiese, Cosenza, Lucchese, Foligno, San Marino, Virtus, Lanciano, Carpi, Sorrento, Catanzaro, Cavese, Gubbio, Benevento, Este, Lumezzane, Pomezia, Salernitana, Sud, Tirol, Verona, Virtus, Casarano.